bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono xyuder e ragazzi anche oggi ovviamente un bel po di novità per quello che riguarda il futuro di fortnite e i giorni che mancano alla patch 14.10 nei video di oggi parleremo della nuova gara di pesca presente ufficialmente sul sito di fortnite vi faccio vedere e vi spiego un po di cose ma parleremo anche di come vincere tutte le partite è vero si bara un pochettino però ve lo faccio vedere non usatelo in game fate quello che vi pare cioè non non fatelo non fatelo e ovviamente tante news per quello che riguarda l'evento e tanta altra roba prima però volevo ringraziare tutti i ragazzi che ogni giorno mi supportano nello shop con il mio codice creator xyuderone grazie mille ragazzi per il vostro sostegno mi raccomando non dimenticate di iscrivervi ai miei canali e soprattutto di attivare la campanella per non perdere nessuna notifica con i miei video news e allora andiamo direttamente a parlare del primo argomento di oggi ed è proprio questa immagine avrete già sicuramente capito che si tratta di qualcosa di competitive ed è l'immagine relativa alla nuova coppa hype che potrete giocare hype cup in trios ragazzi sarà disponibile il 6 settembre quindi domani e la descrizione dice welcome to chapter 2 chapter 2 season 4 questo torneo è aperto a tutti quelli che vogliono gli hype per ovviamente livellare e arrivare nell'olimpo dei top player trova il tuo trio e prova a giocare il primo torneo della nuova season quindi ragazzi se per caso in arena vi servono dei punti hype beh il 6 settembre avrete sicuramente un bel po di roba da fare e andiamo avanti a parlare del prossimo argomento di oggi perché voglio anche ricordarvi una cosa tutti conosciamo la ltm che è presente in questi giorni lltm dei taxi che purtroppo però non viene conteggiata nella scheda punti quindi dovremo dovremo aspettare che ne arriverà un'altra beh comunque da ieri pomeriggio hanno disabilitato la modalità in duo e adesso si potrà giocare in trio quindi anche in questo caso trovate un paio di vostri amici e tutti di prepotenza a guidare il taxi per portare al loro punto di arrivo i passeggeri e ovviamente guadagnare un bel po di stelline e andiamo avanti a parlare del prossimo argomento di oggi perché questo è uno degli argomenti di cui vi volevo appunto parlare in maniera un pochettino più approfondita la gara di pesca che hanno annunciato sulla pagina ufficiale di fortnite come sapete ragazzi da questa season hanno deciso di dare un bel po di spazio per quanto riguarda la pesca di vari pesci e soprattutto di tipologie di cane di pesca in quanto c'è proprio quella è la super fish road comunque chiamatelo un po come vi pare che vi permette di pescare un altro determinato tipo di prede caccia alla lenza con l'arrivo della nuova stagione le acque si riempiono di gustose sorprese che tu sei un pescatore provetto alle prime armi questi consigli ti aiuteranno a pescare qualcosa di nuovo quando lanci la tua canna da pesca sull'acqua e tiri su qualcosa tieni gli occhi aperti per pesci che saltano e increspature sulla superficie questi punti di pesca ti daranno le migliori chance di trovare bottino raro un nuovo hobby è ancora più flopper da trovare tutti sull'isola hanno un registro raccolta per tenere traccia della pesca durante una partita ti basterà aprire la mappa e raggiungere la scheda del registro raccolta per trovare il profilo e gli stili dei pesci che hai già preso oltre ai consigli per quelli che ancora ti sfuggono oltre i consigli per quelli che ancora ti sfuggono studia le tue prede migliori e scopri chi è il pescatore migliore fra i tuoi amici le acque dell'isola ora sono popolate da decine di nuove specie dal flopper verde alla livrea picchiettata al pesce peperino dal sapore bruciante fino alla medusa viscida ma dotata di un utilissimo scudo e si dice che ci sia addirittura una rarissima specie di pesci dorati prendere uno di questi abitanti degli abissi non sarà facile alcuni appaiono solo di notte mentre altri sono così evasivi da richiedere una speciale canna da pesca potenziata per essere pescati cosa aspetti ci dai un'occhiata dai un'occhiata a quel comodo registro raccolta e scambia storie di mare con gli altri pescatore per trovare queste sfuggenti creature per celebrare la febbre ittica che impazza sull'isola abbiamo deciso di lanciare una gara di pesca ogni settimana dichiareremo una nuova preda della settimana sui social e vi daremo alcuni consigli su come trovarla pubblicate il vostro pescato online e se ci battete lo mostreremo in pompa magna io credo che sia in prima pagina non voglio sapere che sia in pompa magna non riesco semplicemente a capire quindi ragazzi stanno per arrivare anzi sono già arrivati nuovi tipi di pesci appunto che ci aiuteranno a completare il registro raccolta e quindi buona pesca a tutti pubblicate le vostre foto magari poi verrete ripubblicati sulla pagina ufficiale di fortnite andiamo avanti a parlare del prossimo argomento di oggi perché arrivano ragazzi i bug che verranno fixati nella patch 14.10 il primo è uno dei più importanti verrà data la possibilità di mettere delle canzoni che hanno la licenza di copyright in maniera muta quindi quando andate nella macchina se per caso capita la stazione radio con una canzone col copyright se avete attivato l'opzione non partirà l'audio e quindi se state su youtube non vi verrà demonetizzato il video abbiamo anche dei problemi per quanto riguarda l'audio dei deltaplani che aprono i nostri nemici e che non riusciamo a sentire ma anche il problema dello slow glider quindi è successo anche a me purtroppo in questa season a volte succede che quando riapri il paracadute o lo apri proprio semplicemente magari dopo un rift o cose del genere ti si bagga e va ancora lento fixeranno anche quello abbiamo anche il problema è dove è unable to consume throw fish ok non è possibile mangiare i pesci quando sei nel taxi come un passeggero e non riusciamo anche a distinguere i drop che sono aperti da quelli no perché rimangono in mappa quindi verranno fissate veramente un sacco di cose e quindi non abbiamo assolutamente nessun problema non vediamo l'ora di vedere la patch 14.10 andiamo avanti a parlare del prossimo argomento di oggi perché questa che state vedendo ragazzi non è un fotomontaggio io ho visto il video originale di una persona che su nintendo switch screenava proprio col cellulare il suo il suo schermo e come vedete ragazzi intorno a da alla fattoria c'è questo bagliore rosso questo bagliore rosso ragazzi è molto importante perché si ricollega al discorso che sono già un paio di giorni che stiamo facendo quindi l'arrivo di acri anarchici vi ricordo che questi sono i quattro rift che dovrebbero apparire e a questo punto è molto chiaro che il colore rosso che è quello appunto generato dai rift beacon che sono oramai attivi è quello dedicato ad anacri acres e quindi ragazzi molto probabilmente la vedremo arrivare nei prossimi giorni un'ulteriore conferma che ci fa veramente ben sperare andiamo a parlare del prossimo argomento di oggi perché c'è il dono ragazzi quando il dono fa le cose io ve le dico niente di esagerato ma mi ha cambiato l'immagine di copertina come vedete adesso ha messo dei libri molto interessanti c'è quello di star wars c'è quello della scienza fiction and fantasy c'è quello di tarzan e le scimmie credo sia apes penso che sia una roba del genere e ne abbiamo tanti altri john carter of mars è dune tante altre robe ragazzi insomma non sappiamo se queste copertine dei libri possano indicare qualcosa inerente al gioco star wars lo abbiamo avuto il razzo lo abbiamo avuto non lo so a voi a voi le idee ragazzi e prima di salutarvi volevo farvi vedere una roba veramente incredibile c'è un modo per essere invincibili mentre state giocando ragazzi guardate questo video voi siete praticamente nel in questo caso siete a rapide rischiose dove c'è questo questo covone di paglia gli date un paio di colpi senza distruggerlo prendete un veicolo lo parcheggiate di fianco al covone di paglia scendete dal veicolo salite dove c'è le scale del maxi schermo e una volta salite tutte le scale preparate una rampa vi buttate giù ma mentre scendete prima di entrare nel cespuglio dovete sparargli un colpo in questo modo il vostro personaggio si era fermato in una posizione molto ambigua e come vedete voi potete solo entrare nel veicolo ma non vi potete più muovere l'unico modo per andare in giro nella mappa è quello di guidare i veicoli la roba strana è che se voi uscite dal veicolo guardate che cavolo succede lui vi spara e voi siete completamente invincibili non potete assolutamente essere colpiti potete sparargli possono spararvi ma non vi possono uccidere tra l'altro se mentre state guidando il vostro veicolo il veicolo stesso viene distrutto da un nemico signori volerete è una cosa veramente incredibile è purtroppo una cosa che ovviamente non si dovrebbe fare perché è barare però con questo metodo vincerete senz'altro tutte le partite insomma ragazzi io anche per oggi tutte le news ve le ho dette vi ringrazio tantissimo per avere guardato questo video mi raccomando un bel pollicione in su iscrivetevi ai miei canali e a me mi trovate proprio adesso in live su twitch ciao